In tempi di pandemia anche i cori si riorganizzano online. Chi solitamente era abituato a chiudere l'anno con un concerto ha studiato nuove modalità per non far mancare la sua presenza al pubblico affezionato. È il caso del coro di Sapri, Joyful Singers, che nel giorno dell'Epifania ha diffuso il brano nato proprio sul finire dell'anno della grande pandemia. E' veramente il primo vero brano totalmente inedito, cioè fatto esclusivamente da noi Joyful Singers. Il video comunque è natalizio sì, ma in realtà fa un resoconto un po' di questo 2020 e racconta il nostro messaggio comunque di speranza. Un desiderio che accomuna il mondo intero e che da Sapri è stato espresso cantandolo in coro. Joyful Singers ha già altri progetti da realizzare. Abbiamo già in mente di fare un altro video, un'altra canzone per Pasqua. E poi se si potrà, io spero proprio che si potrà tornare a fare concetti per Natale, Natale 2021, abbiamo in mente di fare un grande spettacolo. Perché comunque immagino che non solo per noi, ma per tutti ci sarà una grande voglia di tornare a vedere proprio qualcosa di bello. e quindi spero di poter regalare alla nostra zona, insomma, le persone che di solito vengono ai nostri concetti, un grandissimo spettacolo di Natale. Un Natale normale Un Natale normale Un Natale normale Un Natale normale Un Natale normale